Riparte finalmente il torneo interfacoltato con tantissimo tempo di stop, partita ad esordio bellissima tra Noblesse e La Femme de Dios, vincono Noblesse 7 a 3, partire però subito da La Femme de Dios. Grazie, primo tempo buono, direi, miss bene in campo, riuscivate a mantenere comunque un buon ritmo, nonostante fosse abbastanza compassato da entrambe le squadre, forse quei due gol sul finire del primo tempo vi hanno un po' condizionato nella ripresa dove avete provato a riprendere in mano la partita, non ci siete? Prendere due gol, soprattutto in Italia, a termo tempo, comunque incide, è comunque un periodo di stop, è sempre difficile tornare a giocare ai livelli, una volta è stata una partita equilibrata, i nostri avversari sono stati forse più concreti, però noi siamo mangiati parecchi gol, abbiamo spiegato parecchie occasioni, potremmo fare di meglio. Concreti, forse anche dal punto di vista fisico, sono stati un po' più, anche forse proprio la struttura, esatto, 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 vi ha condizionato un pochino, cioè nonostante comunque solo l'esordio, questa squadra secondo me ha le possibilità di poter guardare più. Certo, noi faremo sempre di meglio. Grazie mille, alla prossima, ti faccio salutare gli avversari. Passiamo invece a Nobles, ragazzi, 7 a 3 il risultato è quello che conta alla fine, forse un primo tempo un pochino sottotono, avete preso diciamo il largo nel secondo tempo quando le maglie si sono allargate, contava come ti dicevo poco fa conquistare questi tre punti, ma credo che la prestazione sia stata più che sufficiente. Sì, grande prestazione, all'inizio dovevamo carburare, ci siamo mangiati molti gol all'inizio, però pian piano il gioco è venuto fuori e abbiamo tirato fuori una bella partita. Alla fine secondo me loro erano stanchi, anche noi, però alla fine abbiamo fatto dei gol importanti che ci consentono di fare tre punti. Assolutamente, anche per la differenza Riti, forse alla lunga potrebbe contare, c'è da riattivarsi un pochino, nel primo tempo eravate un pochino macchinosi. Dovevamo assemblare alcune cose, ruoli, cose. Alla fine ci siamo riusciti, è venuto fuori il gioco che doveva uscire. Primo mattoncino, vi presentate alla grande, sarà importante continuare con questo ritmo per le prossime cose. Certo, l'importante è vincerle tutte. Grazie mille, alla prossima.